Questa è una cosa che vorrei chiarire, perché io sono andato via dopo la sera, ho fatto le dimissioni, dopo Inter Napoli per un litigio con De Laurentiis negli spogliatoi sulla Valenza o meno di De Santis, perché De Laurentiis arrivò nello spogliatoio e aggredì verbalmente il portiere De Santis apostrofandolo in maniera inqualificabile professionalmente. Quella cosa mi disturbò molto, anche perché De Santis è un giocatore che ho voluto fortissimamente io e sono onorato di averlo portato a Napoli, visto come poi ha reso nella parabola ascendente del Napoli. E per quello litigai con De Laurentiis, la sera stessa gli feci un sms che ho ancora conservato, quindi documentabili, gli feci le dimissioni. De Laurentiis mi invitò alla partita con il Siena, perché dice così, lo diciamo dopo la partita, perché non voglio trambusti, perché dobbiamo vincere con il Siena domenica. Solo che poi dopo sembrava quasi che mi avesse mandato via lui, io invece sono andato via io, prima.